Rieccoci in onda con lo spazio dell'intervista, con me c'è Corinna Trocca che è stata protagonista sul malgrado di alcuni servizi della nostra redazione per la sua condizione, vive in auto dopo una separazione, insomma le manca un tetto sopra la testa e vive una situazione particolarmente difficile, con lei c'è anche il suo avvocato Giovanna Augusta De Manzano, grazie per essere qua con noi, allora signora Corinna è cambiato qualcosa dopo i nostri servizi, è successo qualcosa oppure la situazione è sempre la stessa, vive in auto? Le dicevo all'operatorio ho cambiato praticamente sedile, davanti sono andata dietro perché appunto ho problemi delle gambe, delle ginocchia e comunque insomma è un disagio grande vivere così. Continua a vivere così, ecco noi avevamo sentito anche l'assessore Famulari che insomma si era interessato al caso però ancora nessuna risposta, possiamo dire così. Io non l'ho sentita, assolutamente. Ecco, avvocato una situazione, una condizione molto difficile dovuta a una separazione purtroppo situazioni che sono come posso dire difficili da risolvere, servono risposte più tempestive della parte delle amministrazioni. Sicuramente, la signora sta vivendo quello che è un dramma sociale di tutti i coniugi piuttosto che di tutte le coppie separate che a un certo punto si ritrova senza abitazione e il fenomeno sicuramente tocca più il genere maschile che il genere femminile e in questo caso la signora dopo ben 40 anni, 37 anni di matrimonio, avendo consapevolmente firmato una separazione consensuale, un po' per pressioni familiari, un po' per ignoranza legis che comunque mai non scusa e adesso appunto si ritrova in strada. Il problema degli alloggi è un problema, costituisce ormai un'emergenza nazionale, gli alloggi per i genitori separati piuttosto che per i coniugi separati e divorziati costituisce ormai un'emergenza nazionale perché la legge tuttora è tale per cui uno dei due coniugi deve rilasciare l'abitazione, in questo caso è stata la signora Trocca. L'amministrazione comunale comunque si sta occupando della questione perché la signora appunto sta dormendo in macchina, un cittadino italiano che dorme in macchina lì dove l'amministrazione dà la priorità a altre situazioni sicuramente degne di nota ma così come lo è degna di nota la situazione della signora richiede appunto un intervento assolutamente urgente e l'amministrazione so che se ne sta occupando. Ecco non so se signora Corina voleva rivolgere un altro appello in modo che insomma si faccia il più presto possibile per trovare una situazione legittosa. Sì, ogni notte passata fuori è dura, è dura perché comunque insomma non si può vivere in macchina proprio umanamente. Anche i cani hanno... Ci sono stati episodi insomma spiacevoli. Sì, 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 di fatto ho avuto una bella esperienza di vita in questo periodo qua, molto brutto però molto utile diciamo. Si impara a conoscere le persone, i pericoli, le cose varie. Aspetta insomma una risposta concreta. Sì, gentilmente se avrebbero la cortesia appunto di darmi una risposta, insomma, di sapere. Visto che ci sono comunque, io le dico, sono case che mi hanno detto che non possono darle perché non sono a norma. Ecco, devo dire tra l'altro che dopo entrambi i servizi avevo ricevuto decine di chiamate di persone che dicono di fronte a casa mia c'è un appartamento dell'Attersfield, eccetera. Poi però operativamente le cose non si concretizzano. Ma dico una cosa, ma perché non possono riparare queste case e darle alla gente invece di dover spendere soldi, non so, per metterli negli alberghi, come so, che ci sono persone che vanno negli alberghi, oppure vivere in macchina. Insomma, non penso che venga a costare miliardi. Non so, costruiscono case in via dell'Attesa, via l'ipodromo e non mettono a posto gli appartamenti che sono attuali, che ci sono. Perché addirittura conosco uno stabile, che ci sono 12 appartamenti su 12, 8 sono occupati e il resto sono liberi. Certo, quindi insomma le possibilità ci sarebbero, speriamo insomma che si ne ascolta anche il sindaco Cosolini che possa velocizzare eventuali pratiche. Avvocato, lei mi diceva che chiaramente sono situazioni che spesso si vengono a caratterizzare quando, per questioni economiche, insomma per problemi contingenti, oppure per cercare di fare una separazione più, tra virgolette, indolore possibile, ci si rivolge a un unico legale. Sì, dunque nel caso in specie la signora Corinna si è rivolta allo stesso legale del marito. Dunque, nella premessa che non voglio assolutamente parlare della situazione in particolare, perché non lo trovo né opportuno né tanto meno elegante, quantomeno, io sconsiglio altamente di rivolgersi a un unico legale anche lì dove ci sia una separazione consensuale, perché a mio parere ogni parte deve essere tutelata al massimo da un legale, questo è una mia forma mentis, un mio modo di agire, per cui adesso stiamo cercando di rimediare come si può, c'è un procedimento pendente e non diciamo assolutamente altro e speriamo che la signora in ogni caso possa trovare un alloggio quanto prima, però ormai il danno è stato fatto. Sì, ma ci sono state delle persone che le hanno aiutate in questo momento? Sì, sicuramente sì, non possono ospitarmi perché comunque neanche io non mi sento di mettermi in una famiglia e rovinare un equilibrio di una famiglia, perché insomma avere un ospite in casa si sa che dopo tre giorni puzza, è come il pesce, no? Ecco, e non ci si sente assolutamente bene perché, torno a dire, preferisco stare in macchina sapendo che è mia e che non devo chiedere, non so, posso uscire, posso entrare, posso girarmi, posso voltarmi, perché insomma in una casa comunque deve chiedere tutto. Tra l'altro lei si sposta di sera in sera per trovare delle zone tranquille, come fa? Sì, cerco di spostarmi appunto proprio per un motivo di sicurezza, perché per non essere proprio presa di mira, diciamo, no? Cioè sono due giorni di qua, due giorni dell'altra parte, insomma, comunque giro. Ecco, avvocato, una condizione molto difficile, lei mi diceva, di solito capita agli uomini. Sì, in base alla mia esperienza, ma anche in base alle statistiche, si prende l'esempio di una famiglia italiana media, marito e mogli, con due figli, per lo più una famiglia monoreddito in cui per lo più è solo il marito che lavora e quindi che guadagna. Se la coppia decide di separarsi, la casa coniugale va al genitore collocatario dei figli che il 95% delle volte è la madre e quindi il padre, il marito perde la casa coniugale, ha un diritto di visita nei confronti dei figli, che è quello stabilito dal tribunale o quello in base ad accordi con la controparte e comunque si ritrova sicuramente senza casa e a dover versare un assegno mensile per i figli e a volte anche per la moglie, per cui con uno stipendio medio è veramente difficile arrivare non solo a fine mese, a metà mese. Certo. Per cui questa purtroppo è una condizione comunissima, ormai comune in tutta Italia. Ecco voglio precisare comunque l'aiuto che mi stanno dando i servizi sociali che ho sentito dire che mi hanno dato l'aiuto, che sembrerebbe che uno gli dà l'aiuto che può prendere casa, mangiare, dormire, fare tutto. Il suo famulare di assegni di 400 euro mensili. 400 euro al mese e giuro sinceramente che non si arriva assolutamente. perché, mi scusi anche il termine, per andare a fare la pipì. Certo. Devo pagare un euro perché è minimo che prende... Per fare la doccia, cioè... No, ne sto parlando solo della necessità proprio che ha bisogno in tutti, no? Primaria, certo. Ecco. Devo bere un caffè per andare in un bar, appunto fare le cose che devo fare. A lavarsi. Dopo per lavarmi, dopo comunque viene 10 euro solo per lavare le mie cose, lavarle, asciugarle, comunque ci vuole l'interessivo, l'amorbidente, di tutto. Come può una persona in strada, con 400 posso vivere in casa, ma non in strada. Certo, perché mancano tutte le prime necessità. Ci sono tutti altri problemi in strada, non so, per fare la doccia deve pagare, per mangiare... non può mangiare quello che può, che dovrebbe mangiare, ma bensì deve accontentarsi. Tutto. La prima collezione. La prima collezione uno la deve fare, specialmente io che devo prendere la terapia e devo mangiare. Certo, poi insomma ci sono anche chiaramente, come dicevamo prima, dei motivi di sicurezza per cui è la notte, mi diceva, state delle persone che hanno tentato di introdursi in macchina, insomma... No, di introdursi in macchina no, però aprire gli occhi e vedersi una faccia di una persona scura che la sta guardando è un attimino così. In cui è da? Le dico sinceramente, e lo dico proprio appartamente, che io mi sono procurato un bel coltello da cucina e l'ho in macchina. Insomma, un antifurto che speriamo naturalmente, un antifurto di un'arma di difesa che speriamo... Spero, spero neanche io, però... Però insomma, chiaramente... Sicuramente non va a dormire tranquilla, insomma, no? Allora, noi rivolgiamo ancora un appello all'amministrazione comunale, al sindaco Cosolini, perché, insomma, si faccia carico di velocizzare le pratiche per l'assegnazione di un alloggio a Trieste. Speriamo naturalmente in una pronta risposta. Ringraziamo ancora una volta Corinna Trocca e il suo avvocato per essere state con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie ancora, i programmi di Tele 4 continuano. Grazie.